Vulcanica Mente, primo bando del mese dell'innovazione indetto dal comune di Napoli, è un'iniziativa per sostenere idee d'impresa innovative e originali e creare percorsi di formazione e opportunità concrete di lavoro. Le buone idee nascono e passano comunque per questa città. Abbiamo magari una scarsa capacità di registrarle, di farle valere. Pensiamo alla pizza. Quanti americani credono che la pizza sia una cosa americana? Dal 16 al 18 febbraio è partito il primo dei due Tech Weekend, ospitati dalla Fondazione Valenzi, dove un centinaio di giovani studenti, laureati, ricercatori, docenti e aspiranti imprenditori, quasi il doppio del numero previsto, si sono incontrati per illustrare pubblicamente le proprie idee d'impresa dinanzi a un gruppo di esperti. All'avvio dei lavori era presente il console statunitense Donald Moore, che ha rivolto il suo augurio ai partecipanti. Grazie per questa opportunità di parlare con tutti Napoli, cercando di creare più opportunità di realizzare la potenzialità che è qui a Napoli, specialmente con i giovani. Questo è un altro momento per noi di collaborare con i comuni di Napoli. I napoletani hanno una reputazione di avere tante immaginazioni e questa immaginazione deve essere catturata e utilizzata in un modo con la nuova tecnologia. Noi dobbiamo dare a tutti i ragazzi, non solo le ragazze di questa città, un'opportunità. Ciascuno deve trovare la sua strada e siamo convinti che con un incubatore d'impresa le idee, le tante idee che tanti napoletani hanno potranno essere messe alla prova. Cerchiamo di avere come modelli, e sono contento che ci sia qui il console degli Stati Uniti, quello che accade negli Stati Uniti. Moltissime aziende sono nate in un garage, noi magari abbiamo i garagi bassi, le sottoscala e così via, e abbiamo soprattutto le persone che hanno voglia di fare. E delle idee possono crescere. Col supporto di un team di specialisti, le idee di innovazione saranno perfezionate e tradotte in progetti. Durante i due weekend si formeranno gruppi operativi di lavoro. Gli autori delle migliori proposte parteciperanno a stage gratuiti presso importanti centri internazionali di ricerca, come la Silicon Valley, e godranno di un percorso professionale di incubazione di impresa. Stiamo sperimentando con gli incubatori del Comune di Napoli nuovi modelli di sviluppo. Quello che oggi presentiamo qui col Tech Weekend è il modello americano. Però la nostra idea va oltre questo modello e è più inclusiva da accogliere tutte le tipologie di creatività del nostro territorio. Abbiamo voluto fortemente ospitare questa iniziativa alla Fondazione Valenzi perché crediamo fortemente nello spirito e negli obiettivi di questo progetto. Crediamo fortemente che una fondazione debba impegnarsi per lo sviluppo del territorio. Il programma di tutta l'iniziativa è disponibile su www.incubatore-napoli-est.it